Dottor Mattison, non so quale piacere sia vederla. Ah, veramente la dottoressa Mattison è lei? Lui e il dottor Buckley. Oh, mi scusi. Piacere. In genere ci sono due tipi di persone con un dono speciale. Quelli che credono sul serio di avere un potere. E gli altri che credono che noi non riusciremo a smascherarli. No, Leo, correggi la posizione. Alla tua destra, Richard Vargas. Io chiamo Richard Vargas in nome di Dio. Sbagliano entrambi. È da molto che lavori con la Mattison. Sei uno psicologo anche tu? O un mago? Veramente sono un fisico. Allora perché lo fai? Fare cosa? Perché indaghi sui falsi fenomeni paranormali? Simon Silver, forse il medio più celebrato di tutti i tempi, arriverà qui tra tre settimane. Ci sarà una corsa folle ai biglietti. Non c'è rimasta nessuna vera sfida in giro. Silver è una vera sfida. Su Silver hanno già indagato. Sì, ma 30 anni fa dovremmo indagare su di lui ora. Lascia perdere Silver, Tom. Ci sono cose che è meglio non sapere. È pericoloso, Tom. Sta lontano da lui. C'è solo un modo per arrivare alla verità. Tu non sai in cosa ti vai a ingaggiare! Che sta succedendo? Mi stai sfidando? Metti in dubbio i miei poteri! Sì, ma 30 anni fa! Sì, ma 30 anni fa!